I diritti in diretta, in collaborazione con CGL Inca, Teorema Buonasera, ben ritrovati Naturalmente è una nuova puntata di Diritti in diretta Naturalmente siamo in diretta E naturalmente siamo qui a darvi conto delle novità che in settimana si sono manifestate E sono diverse, tante, stasera ne parleremo insieme a voi Perché notizia di qualche minuto fa e ce l'ha portata uno dei nostri ospiti Che è William Zanoni, intanto lo presento Insieme a Rino Sorani che stasera ci terranno compagnia E vi daranno conto delle novità che abbiamo elencato ad inizio di trasmissione Ma anche nel telegiornale vi abbiamo dato un'anticipazione L'emendamento di cui stasera parleremo è stato approvato William, me lo confermi perché è notizia di qualche minuto fa E quindi l'emendamento di fatto è cosa scritta nero su bianco Adesso dovrà naturalmente raggiungere l'iter parlamentare Ma fondamentalmente è uscito così come avevamo avuto anticipato la settimana scorsa il testo di legge Stasera abbiamo deciso di dedicare la prima parte della puntata A darvi conto dei contenuti dell'emendamento Ma anche a darvi conto delle ragioni che ci hanno spinto e che ha spinto la CGL A dire no alle proposte del governo Voi sapete che settimana scorsa si è concluso l'ultimo incontro tra le parti sociali e il governo E a seguito della famosa fase 2 di contrattazione con le parti sociali Che avrebbe dovuto portare ad alcuni risultati E vi daremo conto stasera del fallimento del precedente accordo già firmato nel settembre dell'anno scorso E quindi del 2016 insieme alle parti sociali C'è stata da parte del governo una disattenzione rispetto a quell'accordo E quindi la CGL ha detto no, andiamo in piazza a farvi, come dire, a darvi conto del dissenso rispetto a quell'accordo Nell'interesse naturalmente dei lavoratori e dei pensionati, questo è l'intento E stasera daremo conto di ciò Io darei la parola a William che intanto ci illustra i contenuti, abbiamo detto, dell'emendamento Perché ci serve l'illustrazione dei contenuti? Intanto per darvene conto e questo è importante Ma perché l'intervento successivo di Rino servirà a chiarire quei punti Che non sono stati attuati all'interno di questo emendamento E che avrebbero dovuto trovare attuazione Quindi vedremo le differenze e come si sono sviluppate Io ti do la parola a William così Poi magari interloquiamo e cerchiamo di capire se ci sono dei punti dove possiamo insieme ragionare Allora, intanto dobbiamo subito chiarire una cosa Era già stato preannunciato e sarà sicuramente così Il testo della legge di bilancio che uscirà dal Senato Sarà sicuramente ulteriormente modificato alla Camera Ovviamente in senso migliorativo Ci sono parecchie discussioni, parecchi confronti ancora in corso Anche fra le organizzazioni sindacali e i gruppi parlamentari Anche oggi appunto CGL e Cisleuil hanno incontrato alcuni gruppi della sinistra Per un confronto sui temi della legge Ma anche il governo con una serie di soggetti ha in piedi una serie di confronti Quindi il testo che verrà varato cominceranno mercoledì Dovevano cominciare oggi ma cominceranno mercoledì I lavori nell'aula per cui presumibilmente verso fine settimana Anche presumibilmente con un voto dei fiduci Vedremo Si parlavano dei prossimi due giorni Si arriverà a quel testo, a quel percorso Quindi a fine settimana conosceremo il testo del Senato Sicuramente verrà poi modificato la Camera Quindi dovrà poi tornare al Senato Come è sempre accaduto anche negli anni scorsi Con le leggi di bilancio Quindi le cose che diremo stasera Potrebbero essere suscettibili di ulteriori miglioramenti Di ulteriori inserimenti su alcune cose Alcune forse sono definitive Quando parleremo della speranza di vita Credo che su questo punto Non dovremmo avere altre sorprese Ma ci sono altre cose sul tappeto Che potrebbero dare qualche spazio a qualche aggiunta Allora ci soffermiamo ovviamente Sulla parte di più stretta nostra competenza Che è la parte previdenziale Già nel testo della legge di bilancio presentata alla Camera Non è che ci fosse molto Ma qualcosa c'era già in termini di previdenza Ma la parte più importante È quella dell'emendamento appunto che oggi La commissione bilancio ha votato Ha votato in larga maggioranza Con un paio di astensioni Di MDP e dei 5 Stelle Dopodiché il testo adesso andrà poi all'aula La discussione più feroce dove l'abbiamo avuta? L'abbiamo avuta sulla storia della speranza di vita Abbiamo già commentato anche in serate precedenti Uno di queste proposte che sembrava essere davvero una mezza presa in giro Cioè ritardare l'emanazione del provvedimento, del decreto Che dovrebbe uscire a dicembre di soli sei mesi Senza aver affrontato nel frattempo Perché chiaramente da qui alle elezioni Difficilmente ci sarà spazio per affrontare tante altre discussioni Rischiava di essere un'illusione Che poi alla fine si sarebbe tramutata in un nulla di fatto Si è invece preferito fare un doppio percorso Verranno sicuramente confermati Fra probabilmente due o tre settimane Quei percorsi di aumento della speranza di vita Che già Istat ha comunicato I 5 mesi in più A partire dal gennaio 2019 Come principio di carattere generale Quindi l'impianto costruito a suo tempo Nel 2009 Che poi si è diversamente evoluto Fino alla riforma Fornero Rimane confermato con questi ulteriori 5 mesi Ma l'elemento significativo è appunto L'inserimento di un gruppo di soggetti Che saranno derogati dall'innalzamento della speranza di vita E questo avverrà per tutti e due i percorsi Che più ci interessano Cioè da un lato L'aumento dell'età pensionabile Gli attuali 66 e 7 mesi Diventeranno ufficialmente 67 E anche la pensione anticipata Gli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini E 41 anni e 10 mesi per le donne Diventeranno rispettivamente 43 e 3 mesi E 42 e 3 mesi A partire dal gennaio 2019 Entrambi questi percorsi Quindi sia l'età pensionabile Sia il requisito per la pensione anticipata Derogheranno una serie di soggetti Temo anche qui che ovviamente non saremo in grado Stasera di dire esattamente chi sono i lavoratori Che entreranno in questo percorso Perché ripeteremo per larga parte Tutto il tormentone dell'Ape E della pensione dei precoci Che abbiamo gestito nei mesi scorsi Però ci si rifà ad un percorso di quel tipo La legge fissa L'emendamento della legge Fissa alcuni principi Si demanda poi ad un decreto ministeriale attuativo Che dovrebbe uscire Addirittura hanno anticipato ancora di più i tempi Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge Quindi entro gennaio Dovrebbe uscire un decreto Con particolare attenzione A quelle nuove quattro figure Che vengono aggiunte all'elenco Di quei lavori gravosi Che abbiamo visto hanno caratterizzato In ultima istanza La possibilità di entrare Sia in Ape Social Sia nella pensione anticipata Dei precoci Quindi in buona sostanza William sono 5 categorie aggiuntive A quelle già teoricamente 4 categorie aggiuntive Da 11 passiamo a 15 Quindi le 11 Le abbiamo già più volte elencate Gli edili I conduttori di gru Gli autisti Ci sono le stesse già elencate Le varie figure che sono esattamente quelle E non credo che Forse con qualche semplificazione in più Ma non credo che verranno modificate Tutte le declaratorie Che nei decreti erano state scritte Ma il decreto nuovo Che dovrà uscire Dovrà soprattutto qualificare Le nuove 4 figure Che sono Gli operai agricoli Sono i lavoratori Della siderurgia Di prima e seconda fusione Sono i lavoratori Della pesca E i marittimi Queste 4 categorie Si aggiungono Appunto all'elenco Che già prima Conossevamo E che verranno Appunto derogati Da questo Innalzamento Dell'età Con l'aumento Della speranza di vita Ovviamente Tutto il resto Delle vicende Che si agganciano Ad un'età anagrafica E che sono allegate E che sono agganciate Alla speranza di vita Non vengono stoppate Faccio un esempio C'era un emendamento Che è stato bocciato Dalla commissione Che prevedeva Di far tornare Il diritto All'assegno sociale Ai vecchi 65 anni Di remota memoria Che nel frattempo Erano già diventati 65 e 7 mesi E da gennaio Diventeranno 68 e 7 mesi Scusate 67 e 7 mesi Per diventare Poi Dal 2019 Cioè diciamo Che si parifica L'età della vecchiaia A questi soggetti Non è data nessuna deroga Stiamo solo parlando Di pensione di vecchiaia E pensione anticipata Per questi due requisiti Appunto C'è l'intervento Dell'emendamento Nel derogare Questo innalzamento L'altro elemento Significativo però È l'impegno Poi ecco Una cosa importante Che dobbiamo tenere presente È questo Comunque fosse andato L'incontro Con le organizzazioni sindacali Che sappiamo Poi con Rino Vedremo Come si è chiuso Quindi con il dissenso Di una Rispetto alle altre due Che hanno invece Dato il loro consenso Quell'accordo E qualunque cosa Scrivessimo In questa legge Che impegna Un tempo Oltre I prossimi 3-4 mesi Deve ovviamente Fare i conti Con il risultato elettorale Un nuovo governo Forse Anzi Un nuovo governo Sicuramente Forse una diversa maggioranza Chissà cosa succederà Quindi Molte delle cose Scritte oggi Vanno prese Con beneficio Di inventario Il rischio vero È che Accada Come già Purtroppo Abbiamo visto Altre volte Che alcune Di quelle promesse Poi svaniscano Perché Altri Hanno idee Diverse Cioè Vi faccio solo un esempio Se qualcuno Avesse davvero L'intenzione Di abrogare La Fornero Come si dirà Vedrete In campagna elettorale Con tutte le difficoltà Che sappiamo Esistere Su questo tipo Di impegno È chiaro che Se si abrogasse La Fornero Tutto questo castello Cade Perché Ripartiremmo da zero Con tutti i percorsi Che in quegli anni Avevamo già Costruito Paradossalmente Torneremo Allo scalone Maroni Potremmo tornare Allo scalone Maroni Oppure Alla quota Oppure A tutti quei percorsi Che già conoscevamo La fantasia sprenata In questo caso Perché Sottolineo questo Perché c'è l'impegno A modificare Il meccanismo Della speranza di vita Ora Noi oggi Abbiamo Per l'ultima volta Nel 2019 Lo scaglione Triennale Degli aumenti Che vengono letti Con una determinata Metodica Da parte Dell'Istat Dal 2021 Diventeranno Biennali E in occasione Di quell'aumento Biennale Quindi Di 2021 E scritto Nell'emendamento Votato E che entrerà Nella legge Che verranno Individuati Nuovi criteri Quindi verrà Costituita una commissione Di esperti L'Istat Demografi Statistici Attuari Ims Ministero Eccetera 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 Che dovranno Individuare appunto Dei diversi percorsi Con un impegno Che è quello Di non applicare mai Degli aumenti Di speranza di vita Superiore a tre mesi E' lo stesso Vincolo Che noi Utilizzammo Quando abbiamo Cominciato ad applicare La speranza di vita Nel 2013 Che è stato il primo anno In cui abbiamo aumentato I requisiti Per la speranza di vita L'accertamento L'accertamento dell'Istat Era di cinque mesi Di aumento Come il prossimo Che dovremmo applicare Ma la legge Che istituì La dinamica Di speranza di vita Aveva già scritto Che massimo Si sarebbero applicati Tre mesi E così accadde Nel 2013 Questo accadrà Anche negli anni futuri Anche se noi Continuassimo Ad aumentare La speranza di vita Per numeri più elevati Massimo L'aumento sarà Di tre mesi Ma se per caso Ist dicesse Sono quattro Tre li applichiamo Uno lo teniamo Di scorta E al prossimo aumento Lo andiamo poi A recuperare A ritroso E quindi lo Appliceremo nel tempo Quindi lo teniamo lì Come debito Che abbiamo accumulato E poi lo Scusa Viglia Se interrucchi Questo vale anche Per le deroghe Cioè Non è che Adesso abbonati Questi cinque mesi Per la categoria Diciamo Individuata Dalla legge Le 15 Gravose Poi si interrompe Per sempre L'aspettativa di vita Ah lì saranno I nuovi criteri Che lo stabiliranno Perché anche su questo Non è chiaro Non è certo Non è che le congeliamo Non si applica L'aumento Certo Dice non si applica Quell'aumento Poi vedremo appunto Cosa succederà Ecco una cosa invece Che è scritta Chiara nell'emendamento È che questi soggetti Che saranno derogati In particolare Dell'innalzamento Della pensione di vecchiaia Non dovranno rispettare La clausola di salvaguardia L'abbiamo citata Più volte Noi abbiamo Un impegno Nei confronti Dell'Europa A far sì Che la nostra età Pensionabile Nel 2021 Non sia inferiore Non sia inferiore a 67 anni Ci arriveremo già nel 2019 Come principio generale Ma siccome L'elenco di quei soggetti Verrà escluso Da quell'aumento Rimane fermo Agli attuali 66 e 7 Non è che nel 2021 Gli aumentiamo a 67 Perché sotto questo limite Non possiamo stare Anche da questo limite Sono derogati Quindi non applicheremo La clausola di salvaguardia Tutti rientreranno? No Serve anche qui Un requisito contributivo Per poter entrare In questo elenco Di 15 categorie Che consentiranno Di non applicare La speranza di vita Bisogna avere svolto Questa mansione gravosa Per 7 anni Negli ultimi 10 Abbiamo sposato Quindi modifichiamo ancora Abbiamo sposato La tecnica dei lavori usuranti E dovremmo avere 30 anni di anzianità Contributiva Quindi l'età normale Sconta 20 anni Di contributi Per andare in pensione Di vecchiaia Ed essere derogati Dall'età normale E mantenere la vecchia Devo averne invece 30 Quindi abbiamo Un mix di meccanismi Che chiaramente Complicheranno All'infinito Sarà interessante Nell'agricoltura Capire 7 anni Negli ultimi 10 Con questa Precarietà E frazione Di rapporto Come sarà calcolato Siccome gli agricoltori Sono assicurati A giornate Bisogna capire Esattamente Queste giornate Come le commisuriamo Questi 7 anni Come li commisuriamo Spiego ai telespettatori Che non fanno Gli agricoli Diciamo che il lavoro agricolo Ha una particolarità specifica Per cui io lavoro Un X numero di giornate Sia che io sia OTD Sia che sia io A tempo indeterminato Ma in realtà Non lavoro mai Tutto l'anno Molto spesso Ho un numero di giornate Lavorate Inferiore all'anno E quando è che riempio Quell'anno Perché se sono Un OTD Quindi a tempo indeterminato Lo riempio Con i periodi Di cassa Che sono eventualmente Ordinaria Piuttosto che straordinaria In agricoltura Se sono un tempo determinato Lo riempio Con la disoccupazione Quella disoccupazione Come sarà valorizzata Punto interrogativo Perché questo è Un problema Non di poco conto L'altra incognita È il pescatore Io ho la passione Per la pesca Non è che si pesca Tutto l'anno Ci sono dei momenti In cui c'è anche il fermo Ma c'è anche la burracca Però io vorrei riportare Un attimo solo il tema lì Sull'emendamento Dopo do la parola a Rino Perché deve fare Come dire Darci un po' di conti Facciamo i conti Quindi questa è La ciccia più importante Del nostro emendamento Che oggi È il cuore Approvato Perché ruota tutto Attorno a queste cose Nel frattempo Fra l'altro Sono stati bocciati In commissione Emendamenti Non del governo Né del relatore Ma di parlamentari diversi Che stavano tentando Di ripescare La storia Dell'opzione donna Un ulteriore Intervento Di deroga Non a salvaguardia Tutti questi Sono stati bocciati Perché lo diciamo chiaramente Qui non c'è nessun'altra normativa Che vada a salvaguardare A verificare Come dire Normative di sconto Fra virgolette Salvo l'allungamento Dell'app Per il 2019 Questo è scritto nero su bianco William È ancora in discussione Quindi non c'è ancora una certezza L'emendamento per la proroga Al 2019 Non è ancora stato votato Il governo però L'ha proposto Anche nel documento Non firmato Della CGL Quell'impegno era contenuto Però ancora Non è stato tramutato In provvedimento Anche qui scusa Sarebbe paradossale Che Avendo slittato In avanti E avendo avuto tutti i problemi Sull'app Le risorse Venissero distratte No 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 Scopo Quindi L'impegno L'impegno di dire Una proroga Ma di fatto Di utilizzo di risorse Che erano già dedicate Negli anni precedenti E i quali non è stata usata Poi è chiaro che Siccome il 2019 Sarebbe stato un anno In cui sarebbe andato a regime In modo più consistente Le risorse del 2017 Che erano solo per sette mesi Non sarebbero da soli sufficienti A finanziare il 2019 Però insomma Con qualche soldino Non in più La cosa si poteva Diciamo che stasera Vi daremo conto di un po' di cose Perché ce ne sono tante di novità Di cui parlare stasera Quindi Io adesso Ti passo la parola Rino Perché dobbiamo dare un pochino conto Di quelle che sono Come dire Le differenze tra Ciò che ci aspettavamo di ottenere Ciò che il governo aveva già firmato E quindi aveva teoricamente Intenzione di dare Ciò che è stato effettivamente concesso Mettiamola così Sono tre No? Sì Le colonne Che ci interessa capire Io partirei dai temi Che ha trattato lui Che mi pare che siano significativi Ce ne sono tantissimi Perché poi Noi qui facciamo conto Di quello che è Il tema previdenza Ma in realtà C'erano diverse situazioni All'interno di quell'accordo Che riguardavano Il lavoro giovanile Che riguardavano Tutta una serie di elementi Della flessibilità in uscita In entrata C'erano tanti C'erano delle donne Il tema dei giovani E c'era il tema anche Della cura alla famiglia E quindi c'erano Tutta una serie di interventi Che il governo avrebbe dovuto attuare Per andare incontro A queste esigenze Cos'è accaduto in realtà? Nulla? No Intanto mi piace fare Un po' una cronostoria Perché il tema delle pensioni Anche se i tempi sono ristretti È un tema molto sentito E sul quale Ci siamo spesi Tantissimo Dopo tutte le difficoltà Della Fornero E anche insomma Come posso dire Del problema Che abbiamo avuto Nell'affrontare quella fase lì Allora innanzitutto Dopo la Fornemo Siamo riusciti a mettere assieme Una piattaforma E qua la faccio vedere Giusto perché così Tutti sanno che c'è C'è questa piattaforma C'era o meglio C'era Una piattaforma unitaria Vedete Adesso io ho evidenziato Dei punti Però insomma Dove si evidenziavano Tanti temi Proprio perché Il tema della previdenza Lo si voleva vedere In un quadro Molto più complessivo Rispetto al tema Che ha toccato Pocanze Biglia Poi c'è stata Come dire Un impegno E questo è l'impegno Tra l'altro siglato E firmato Adesso non lo sfoglio tutto Questo è il famoso accordo di settembre C'è la fase 1 E poi sfogliando Troviamo la fase 2 Quella famosa fase 2 Che doveva partire Sì Adesso ci arriviamo anche Bene Poi in mezzo tutta la discussione Perché il provvedimento fase 1 È stata la finanziaria del 2016 Che è poi entrata in vigore nel 2017 La fase 2 finanziaria 2017 Che entra in vigore nel 2018 Discussioni, confronti, analisi Si è arrivati a questo emendamento Che è quello di cui parlava Biglia Di quello di cui parlava Biglia E poi a questo punto Noi in CGL abbiamo fatto una comparazione Tra quello che è accaduto e quello che doveva accadere Questa è la comparazione dove abbiamo la piattaforma unitaria Abbiamo quanto proposto dal governo E cosa manca Cosa manca? Eh cosa manca Manca un sacco di euro Intanto mancano i quattrini Mancano i soldi E questa è la cosa fondamentale Che senza quattrini non si fa niente Tant'è che la prima fase Il governo ci ha messo 7 miliardi 6 miliardi 8 Comunque insomma 7 miliardi E in questa fase qui William se non mi sbaglio Parliamo dai 300 ai 350 milioni Quindi con poca grana Si fanno pochi provvedimenti La prima fase Toccava una serie di provvedimenti Che vanno dall'ape socia Al lavoro isuranti All'eliminazione Delle penalizzazioni Per chi andava in pensione a 62 anni Al fatto del cumulo gratuito Che anche questo è stato un elemento importante A una parziale risposta Sui lavori precoci E cioè chi ha cominciato a lavorare presto Dopo a certe condizioni Sempre dentro a quel ragionamento Dei lavori gravosi Poteva accedere alla pensione E poi un altro elemento importante La quattordicesima per i pensionati La non tassaria Insomma quindi 7 miliardi Ma lì si riempivano di contenuti E si capiva che con queste risorse Si davano risposte A una serie di bisogni La fase 2 Sulla quale la CGL Ha presentato delle riserve Sulla fase 1 Però di fronte a questo percorso Ha detto attendiamo la fase 2 Perché nella fase 2 C'è la necessità di dare risposte In particolare a le donne Perché ricordiamo che le donne Hanno un'anzianità contributiva più bassa Ricordiamo che le donne Con la Fornero Hanno avuto l'inalzamento Dell'età più alta Ricordiamo che le donne Dal punto di vista Della cura Dei familiari Comunque Forme anche di aspettativa Non spesso sono ritribuite Quindi hanno le difficoltà maggiori Per poter accedere alla pensione E i giovani Il tema più importante Tra i più importanti Nella fase 2 Si doveva affrontare Il tema dei giovani Quindi giovani Lavoro di cura donne Ma lavoro di cura donne in parte Perché si è anche chiesto La possibilità di poter rifinanziare L'opzione donna Perché anche questo Era un tema previsto nella piattaforma Noi ci troviamo di fronte A questo emendamento Che di fatto Raccoglie con 300 risorse Una risposta Di fatto ha C'è chi dice 14.000 C'è chi dice 15.000 Il governo insomma Gli ha stimati 14.600 Poi secondo me Quando andremo a fare L'analisi definitiva Perché sugli agricoli Sui pescatori Su tutte le altre cose Adesso è parte Le battute Cioè rischiamo Che la fase 2 Si racchiuda Tutto In 3, 4, 5, 6.000 Persone Che vanno in pensione Noi abbiamo posto il tema Su 200.000 persone Oltre che il tema Dei giovani Allora Nel periodo estivo Se si leggevano i giornali Il governo Si era presentato Dicendo che per i giovani Che hanno una carriera Discontinua Che hanno delle difficoltà A mettere assieme Una retribuzione Con questo sistema Previdenziale Anche se lavoravano 45 anni Almeno riuscivano A mettere assieme Una cosiddetta Pensione di garanzia Il governo Nel periodo estivo Si era anche impegnato Su questo fronte A cercare una strada Il verbale Poneva questo tema Con attenzione Così come anche Altri elementi A me sta molto cuore Il tema della previdenza integrativa No? E ho sentito Ah ma c'è tempo No non c'è tempo Perché con questo Sistema pubblico Anche se uno Lavorasse 42 43 Perché qua Ha perso il conto Perché tra l'aspettativa Di vita Si va da 70 Anni Con la pensione Di vecchiaia Poi si arriva 43 44 44 45 Con la Con la pensione Contributiva No? Però Lo dice la ragioneria Generale dello Stato La ragioneria generale Dello Stato Dice che se uno Lavora in modo Continuativo Per 42 43 anni Con un PIL Che cresce Dell'1,5 Tutti gli anni Forse quest'anno Ce l'abbiamo Questo tema Ma non è sempre così E con una retribuzione Che cresce del 3% Ogni anno Arriverà ad avere Una pensione Intorno al 60 70% Allora Di fronte a uno scenario Macroeconomico Così che difficilmente Si realizzerà Non c'è bisogno Di previdenza integrativa E il governo Cosa fa Con questo emendamento Qui Dice che La previdenza integrativa Nel pubblico impiego Perché siamo partiti Più tardi Rispetto al settore privato Anche se ce n'è bisogno Nel settore privato Nel pubblico impiego Forse partirà Forse nel 2019 Se c'è un accordo Con i sindacati Beh Questa è una follia È una presa in giro Perché di previdenza integrativa Ce n'è bisogno 10 anni fa Allora A fronte di Non risposte sui giovani Non risposte Sulla pensione di garanzia Non risposte Sulla parte delle donne Non coerenza E correttezza Su quanto si è firmato In questo verbale La CGL ha fatto benissimo Benissimo a dire Adesso Basta E adesso partiamo Con un percorso Di mobilitazione E' chiaro che Il percorso di mobilitazione Deve Pian piano Raccogliere Un percorso di consenso Perché il tema Della previdenza È un tema Sul quale Non si affronta Più con questo governo Ma si dovrà affrontare In prospettiva Con altri Governi Che poi vedremo Chi sarà o meno Ma E anche Viglia Quando dice Le commissioni Le commissioni Valgono Il tempo Che le istituisci Ma non c'è Nessun governo Che a fronte Di una commissione Istituita Ti sta lì poi Ad ascoltare Su quei provvedimenti Quindi la sostanza Di questo emendamento È che Con un piccolo Allargamento Della platea Sui lavori gravosi Si è venuta meno A quella che è stata La piattaforma Unitaria E L'impegno preso In questo verbale Quindi Io credo Che di fronte A queste differenze A partire Da sabato Prossimo Ci sia la necessità Di chiarire Bene quali sono Queste differenze E di Iniziare Un percorso Che è di Mobilitazione E anche di Come posso dire Raccolta Del consenso Perché su questo Tema delle pensioni Rimanga aperto In futuro Con chi Governerà Questo paese Allora Diciamo che La mobilitazione Che è prevista Per il 2 di dicembre È prevista In 5 città italiane Che sono Roma, Torino, Bari, Palermo E Cagliari Per quanto riguarda Reggio Noi ci dirigeremo A Roma La Cigelle Poi vedrete In sovraimpressione Sono andati Andranno nel corso Della serata I numeri di telefono A cui poter Prenotare La possibilità Di partecipare Alla manifestazione Di Roma Noi andremo tutti Naturalmente Per una questione Non solo di Carattere personale Ma anche Di impegno Lavorativo Perché quotidianamente Noi lo vediamo Agli sportelli C'è una grande Non lo so Rassegnazione Da una parte C'era grande Speranza Di trovare risposte In questa finanziaria Che non sono di fatto Arrivate come avrebbero dovuto Quindi Quello che la Cigelle Chiederà Nell'arco della settimana Sarà Il più possibile Di partecipazione Troverete nel sito Naturalmente Tutte le informazioni E tutte le motivazioni Che stasera Abbiamo un po' Elencato Ma continueremo Nell'arco della serata Anche attraverso L'intervento da casa Ma ci piaceva Darvi conto Non solo Dell'aspetto politico Perché qui non c'è Un aspetto politico Qui c'è un aspetto sociale Sono venute a mancare Alcune situazioni Che avrebbero potuto Modificare In un qualche modo Quanto meno Il rapporto Con il futuro Lavorativo Di tante categorie E qui è venuta A mancare Quello che Io chiamerei La fiducia Che invece Era stata riposta In quelle che erano Le proposte In partenza Perché Credetemi C'è tanta gente Che aspettava La possibilità Di andare Con l'opzione rosa C'era Tutto Una grande Aspettativa Rispetto a Accessi A pensionamento In tempi Anticipati Rispetto a quelli Ordinari Laddove io Mi trovi In una condizione Di assistenza Familiare Particolare Ma Non devo Soggiacere A quelle regole Legate Semplicemente A Se non hai 41 anni Di contributi E se non sei Precoce Non puoi Come dire Accedere Quindi con condizioni Che mi vincolano In senso assoluto Non tanto All'assistenza Ma A raggiungere Un certo requisito Naturalmente Sabato mattina Le camere del lavoro Saranno tutte chiuse Quindi ve lo diciamo Se dovete fare accesso Ai servizi Ovviamente I servizi Non sono assolutamente Possibili Sabato mattina Ma vi invitiamo A partecipare Insieme a noi Io chiudo la prima parte Ma voi state qui con me Perché dobbiamo ancora Parlare dei temi contenuti Nella finanziaria Lascio lo spazio Alla pubblicità E ci vediamo tra poco Riprendiamo la diretta Io naturalmente Ho tenuto uno spazio All'inizio della trasmissione Per dare queste indicazioni E mi è Come dire Piaciuto fare un ragionamento Completo Potete intervenire Naturalmente In diretta Allo 0522 304463 Non solo negli argomenti Che abbiamo trattato Ma anche se avete Delle curiosità Piuttosto che delle domande Da sottoporre Sia a Rino Che a Viglia Potete scrivere Quello lo potete utilizzare Sempre l'SMS Al 3421995675 Dopo che ho dato i numeri Devo dare due indicazioni Di carattere Come dire Operativo E' uscita la circolare Del MIUR E qui Ti chiamo in ballo E lo dico perché Perché purtroppo La circolare del MIUR Ha confermato Che le cessazioni Vanno effettuate Al 20 dicembre Per quanto riguarda Il personale della scuola 2017 E quindi Su indicazione Della nostra responsabile Provinciale Che è Ilaria Rabitti Che doveva essere Questa sera Ma Rino L'ha sostituita A fronte Di questa situazione Che si è venuta Determinata In settimana Per chiedervi Naturalmente Pazienza Perché purtroppo Queste saranno Settimane Non solo per il comparto Del pubblico impiego Ma anche per il comparto Inca Che è impegnato All'interno di tutte le campagne Troverete probabilmente Spesso e volentieri Il call center Che già è Come dire Oberato di lavoro Lo sarà ancora di più Perché alcuni servizi Non potranno essere garantiti Perché avremo raddoppiato Gli appuntamenti Anche al pomeriggio Per dar modo A tutti i dipendenti pubblici Di dare le dimissioni In tempo utile Per poter accedere Al pensionamento Nel 2018 E dovremo lavorare Sulle pratiche Di anticipo pensionistico sociale Che stanno arrivando In risoluzione Insieme a quelle Sui precoci Vi invito Ad utilizzare L'indirizzo di posta elettronica Laddove abbiate Delle urgenze O necessità Di fissare Degli appuntamenti Perché quello È un accesso Differente Rispetto al call center Provinciale Quindi Reggio Emilia Chiocciola Inca.it È disponibile Sempre a tutte le ore Potete contattare Quella mail Anche per ricevere Eventualmente Appuntamenti Piuttosto che Consulenze Di carattere rapido Da poter Poi sviluppare Allo sportello Nel caso in cui Appunto Troviate difficoltà Di accesso telefonico Per i motivi Che vi elencavo prima Quindi Questa era L'informazione Di servizio Che mi premeva dare Prendo la telefonata Poi Vivian Ti faccio dire qualcosa Sulla circolare Del miuro Avete visto Che è stata una settimana Complessa Con molte novità Pronto Pronto Buonasera Io vorrei chiedere Un'informazione Volevo dire una cosa Prego Il mio marito C'ha 40 anni e mezzo Di contributi No? Sì Però Adesso è in disoccupazione Fino aprile Sì Fa 73 anni A giugno Ma può andare in pensione Lui È un precoce Quando finisce Signora La disoccupazione Aprile Aprile 2018 Allora Lui potrà accedere Sia alla normativa Dell'anticipo pensionistico Sociale Che Se ha L'anno di contributi Prima dei 19 All'anticipo pensionistico Quello vero e proprio Lui bisognerà vedere I contributi Come si collocano Magari con una consulenza Allo sportello Dio lo sapremo dire L'unica cosa Lui 40 anni e mezzo Ci ha detto Se arriva ai 41 Va bene È preferibile naturalmente L'accesso con i precoci Perché È un sistema di accesso Più diretto alla pensione L'unica considerazione da fare È che lui Avendo l'ammortizzatore Fino ad aprile Fino a che l'ammortizzatore Non è terminato Non può presentare la domanda Quindi lui dovrà Attendere il giorno successivo Alla fine dell'ammortizzatore sociale Lui dovrà andare Prego Per poter accedere alla normativa Non potrò fare la domanda Nei primi due mesi dell'anno Come per tutti quelli Che maturano nel corso del 2018 Perché in particolare Essendo titolare di ammortizzatore Devo attendere Che l'ammortizzatore termini Quindi Lui la domanda La farà in aprile La domanda di pensione Esatto Di accesso al beneficio Che non è esattamente La domanda di pensione Prima devo essere autorizzato All'accesso al beneficio Ma non posso fare la richiesta Nei termini stabiliti dal 2018 Che saranno i primi mesi dell'anno Ma dovrò slittare Alla fine dell'ammortizzatore E la risposta tarderà ad arrivare Rispetto al monitoraggio ordinario Ma prima di quella data Non è possibile farla Il consiglio è naturalmente Quello di fare Come dire Una verifica della posizione Per capire Quale delle due posizioni È meglio attuare O se ci sono magari Delle situazioni Da mettere in evidenza Differenti rispetto a quelle Che lei ci ha elencato Ma io spero che Nel 2018 Riesca a dare in pensione Lo spero Però signora Bisogna vedere Com'è la normativa Di accesso E quanti anni di contributi ha Perché se non arriva Ai 42 anni I 10 mesi L'unica alternativa È accedere Con le due normative Che citavamo prima Va bene Grazie Niente Anche perché È complessa La storia No, poi tra l'altro In questo caso C'è un rischio ulteriore Ammettendo che possa essere O precoce O con L'ape sociale L'ape sociale E non potendo fare domande Entro il 31 marzo Perché appunto È ancora in titolarità Di Naspi Lui entra nel secondo scaglione Certo Allora Già le risorse Non sono tante Con gli allargamenti Dei criteri di accesso Che finalmente Sono stati messi a punto E che adesso faranno Rivedere Tutta una serie di reazioni Che erano state fatte Nel primo blocco C'è il rischio Che nel secondo scaglione In cui lui entrerà Potrebbero non esserci Risorse per coprire tutti E quindi Vedremo A proposito Di Sante Migliari Dovremo verificare Strada facendo appunto Esattamente come Diciamo che il consiglio È quello di venire Entro la fine dell'anno Allo sportello Per capire se ci sono Paracaduti diversi Poi dopo È chiaro che I miracoli Non li fa nessuno Proviamo però A capire Quali sono gli scenari Possibili Da qui al 2018 Ma guardate Io prima Quando ho elencato Una serie di situazioni Che attendevano Delle risposte Nella finanziaria Non dicevo Una cosa tanto per dire Le vediamo Allo sportello Quotidianamente C'è stata una Disattenzione Rispetto alle problematiche Complessive Quindi da questo punto di vista Mi sento assolutamente Di sostenere La delusione Che si è venuta Creando intorno A questa legge finanziaria Tra l'altro Viglia C'è un altro aspetto Che noi non abbiamo Preso in considerazione Prima ma Che i pensionati Dovranno prendere in considerazione Con i primi mesi dell'anno Che sono Le famose Perequazioni Perché noi prima Abbiamo trattato Di chi deve andare in pensione Ma c'è anche Chi è già in pensione Che è come dire Si aspettava la ripresa Si aspettava la ripresa teorica Di quegli aumenti piccoli Ma che c'erano All'inizio dell'anno E cosa sarà Allora noi abbiamo due scadenze appunto La prima è che A gennaio 2018 In quel meccanismo Che fu costruito Dalla riforma Fornero Poi prorogato Per altri due anni Che ci dà un po' di meno Rispetto alla dinamica Costo vita Finalmente torneremo a ricressere E quindi Abbiamo avuto per tre anni Il blocco degli importi A inflazione zero Quest'anno dovremmo essere Attorno all'1% Questo è l'aumento atteso Ma la cosa curiosa E dopodiché Poi nel 2019 Ritorneremo al vecchio meccanismo Di un tempo Quindi più favorevole Per le dinamiche Soprattutto per le pensioni più alte Rispetto a tre volte Il trattamento minimo Nel frattempo La cosa curiosa È che non è ancora uscito Il decreto Di concerto Fra il Ministero del Lavoro E il Ministero dell'Economia E delle Finanze Che deve accertare Di quanto aumenteranno Le pensioni L'anno prossimo Io ho una mia lettura Di questo ritardo Che secondo me Deriva dal fatto Che vogliamo evitare Di ripetere Problemi Che ci stiamo ancora Trasinando nel passato Del 2015 Quando noi abbiamo fatto Degli aumenti provvisori Più elevati Rispetto a quelli definitivi E poi adesso abbiamo Un debito Che dovrà essere compensato E che probabilmente Lo sarà Con gennaio Febbraio Marzo Di quest'anno Quando ci sarà Anche probabilmente Il comunicato Istat Un po' più affidabile Forse il decreto Forse il decreto uscirà E quindi adesso vedremo Comunque si ragiona Attorno a questa cifra Però ribadisco Noi abbiamo Per tutti coloro Che ebbero gli aumenti Nel 2015 Un aumento Dello 0,1% Semplicemente è stato spostato Al 2018 Sono tirano fuori dalla tasca Assolutamente No 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 Su questo è scontato Quindi c'è anche questo passaggio Ma questo lo confermeremo Perché poi William tornerà Al 23 Scusate Il 18 Che è l'ultima puntata Nel 2017 E faremo un po' A quel punto Il quadro definitivo Perché lì avremo Teoricamente La normativa C'è una mezza giornata Approvata Potremmo anche decidere Di fare un'operazione Vabbè adesso vediamo Insomma Un'operazione strutturale Perché davvero C'è molto interesse Da questo punto di vista All'altra parte Prendo un attimo William la telefonata Poi ti faccio terminare Pronto? Buonasera Prego Buonasera a lei Voi ho fatto un'informazione Io praticamente Ho 5-6 mesi Ho pochi mesi Per andare in pensione Però ho problemi di salute Sì Mi sono informato Mi sono informato E mi è stato detto Ma consigliato Di fare Di cercare di fare Un fine rapporto Con il padrone Con l'azienda Per essere così Facendo un fine rapporto Consensuale E andare In Disoccupazione In disoccupazione E devo prendere Penso la nascola Naspi Per avere I contributi Per oggi Non so se mi ha detto giusto Per oggi Leccevo su tre video Che non è stata rifinanziata Leggo bene Ma ho capito male Io Dal patronato Non so No 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 Aspetti Cos'è che è stato rifinanziato? No la Naspi Oggi su telemedia C'è la ritornazionale Che la Naspi Non è stata rifinanziata Non è stata rifinanziata Non è stata rifinanziata Lo chiariamo Allora Io do la parola a Viglia Ma anche perché la Naspi È una norma strutturale Non viene sostituita da altro Forse ha capito male io No 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 Aspetti Non è che ha capito male lei È una notizia che è circolata oggi È circolata Adesso le diamo informazioni in merito Poi quello che lei ha detto È teoricamente corretto Attenzione a quelle dimissioni Ovviamente Come dire A quel licenziamento concordato Che sia strumentalmente fatto Nel modo corretto Mi viene da dire Dopo ci penserà ovviamente La categoria sindacale Ti passo la parola a Viglia Così gli diamo una risposta Grazie a lei La Naspi è un diritto indiscutibile Ormai è strutturale Non possiamo che migliorarla Tendenzialmente in futuro Visto che per coprire Un numero più elevato di lavoratori Che prima erano esclusi Di fatto ne abbiamo diminuito la copertura Quindi c'è spazio per migliorarla Piuttosto che peggiorarla La proposta che era in ballo Che è stata bocciata oggi Era quello di stanziarare Per finanziare ulteriori risorse Ma non per finanziare la Naspi Il prolungamento della Naspi Cioè questo nasceva In virtù del fatto Che in passato avevamo L'indennità di mobilità Che copriva fino a tre anni Nelle nostre aree Quattro nel mezzogiorno Siccome la Naspi Se va bene Massimo mi copre due anni C'è stato questo problema Di diminuzione di durata Che ha lasciato scoperti Una serie di lavoratori L'intervento che era stato proposto Era distanziare risorse Per coprire questo buco Di un ulteriore anno Dopo i due normali di durata Ed è questo che non è passato In commissione bilancio Perché appunto non c'erano le risorse Quindi non è stata bocciata la Naspi O non finanziata la Naspi Il prolungamento della Naspi Non è passato Quindi dal punto di vista Come dire strutturale L'ammortizzatore sociale Resta esattamente come era prima Esattamente Quindi non ci sono Tra l'altro Nella bozza che io avevo letto La settimana scorsa Si parlava anche di rifinanziamento Della Cassa Integrazione È ancora contenuto Sì quello è nel testo È nel testo dell'emendamento Quindi lì ci sarà Nel testo proprio della legge di bilancio Da tenere in considerazione Io ti faccio terminare il ragionamento Che prima avevi No no beh Sul resto il discorso è già chiuso Volevo riprendere invece la storia Che avevi anticipato tu Del termine delle domande per la scuola Allora se non c'è la telefonata Te lo faccio cominciare No c'è la telefonata Ok dopo lo riprendiamo Dar conto della circolare del MIUR Pronto? Pronto Buonasera Buonasera a lei Prego Senta posso farle una domanda Sull'assegno di vedovanza Per capire chi ne ha diritto Provi prego Ah no è questa insomma Cioè una vedova che ha L'assegno di vedovanza Una vedova da già da molti anni Si ha diritto all'assegno di vedovanza Quali sono i requisiti Per poterlo ottenere? Lei per assegno Aspetti non vada via Per assegno di vedovanza Intende la pensione di reversibilità? No quella ce l'ha già Ho sentito parlare Che c'è anche un assegno di vedovanza Allora a me non risulta che ci sia C'è formalmente in alcune casse particolari Che però non credo neanche Che si chiami in questo modo Provi a dirmi qual è l'informazione Che lei ha ricevuto No così vagamente Ho ricevuto questa informazione Che c'era anche l'assegno di vedovanza No Allora l'unica cosa In aggiunta alla pensione di reversibilità Che è possibile chiedere E che si chiama assegno anche quello Ma è l'assegno familiare In quanto vedova inabile Quando io mi trovo in una condizione Di titolarità di pensione di reversibilità A titolo Diciamo che nasce da una pensione Da dipendente O dell'ente pubblico Che è varificato al dipendente Se io sono inabile al 100% Ricevo una somma aggiuntiva Sulla pensione di reversibilità Che è qualificata In base al reddito E va da un minimo di 10,33 euro A un massimo di 52,90 E che è legata Alla pensione di reversibilità Ma non mi risulta Che esistano altre forme A meno che alcune casse Non lo prevedano Non vorrei che ci confondessimo Con l'assegno funerario Che è quello in Asarco Che lo prevede Alcune casse Oppure con l'assicurazione sociale vita Che hanno però i dipendenti pubblici Perché pagano un contributo particolare Aggiuntivo Ad una cassa Che eroga qualche intervento Ma diciamo che Ho visto alcuni servizi Sulle televisioni nazionali La settimana scorsa Che parlavano di somme aggiuntive Sulle pensioni di reversibilità Non vorrei che facessimo riferimento a questo Ma erano l'assegno familiare No 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 infatti Quindi non ci sono altre situazioni Altrimenti non c'è niente No l'unica cosa è l'indennità per morte Ma è quando non ho diritto Alla reversibilità Ma la signora ce l'ha Che è un'altra storia ancora Lei ce l'ha Quindi non ci sono Assolutamente Quindi direi che a posto così Se la signora non ha un'inabilità tale Da determinare l'assegno Ok Grazie 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 Così ne abbiamo approfittato per ricordarlo Allora William Parliamo qualche minuto Della circolare del MIUR Perché spenderci qualche minuto è utile Poi lo ripeto Le colleghe stanno calendarizzando gli appuntamenti E ci saranno anche in diversi pomeriggi Ecco perché prima vi chiedevo pazienza dall'altra parte Perché il comparto Inca sarà impegnato Per i prossimi 20 giorni A dar conto di questa Come dire Normativa Che tutti gli anni in realtà ci interessa Ma quest'anno è arrivata un po' di corsa Cosa dice la circolare del MIUR Allora sostanzialmente La cosa più importante è l'anticipo della data Noi un tempo le domande le facevamo entro febbraio Poi in un certo momento si sono inventati gennaio Quest'anno addirittura 20 dicembre Ecco questa era la notizia Questa è la notizia più più clamorosa L'ho fatta dare a te perché È arrivata un po' a sorpresa Anche se forse trovo una giustificazione in un fatto Prima il MIUR, le scuole Sanno chi va in pensione Prima riescono a predisporre i provvedimenti di sostituzione Perché una delle cose che i genitori lamentano sempre All'inizio dell'anno scolastico È che non c'è mai l'insegnante Nelle materne, nelle medie, nelle superiori Che deve prendere servizio il primo di quel 10, il 15 di settembre Quando si aprono le scuole Se il MIUR saprà Entro fine anno Dopo non c'ha più scuse È un euferismo Se saprà presto chi va in pensione Probabilmente riesce a sostituirli per tempo Ma l'altro motivo invece è che Essendosi complicati Alcuni percorsi di accesso a pensione Anche avere la certezza del diritto In funzione del quale le mie dimissioni Diventano poi efficaci a tutti gli effetti È un altro dei problemi che genera tempi di istruttoria Di un certo tipo Quindi abbiamo anticipato al 20 dicembre La cosa paradossale però è questa E la si legge in modo esplicito Nella circolare del Ministero Non nel decreto ma nella circolare Per quanto riguarda coloro Pochi in effetti Ma ci sono Che hanno chiesto l'ape social O che hanno chiesto la pensione come precoce E che appartengono al mondo della scuola Siccome anche per queste prestazioni Non c'è deroga alla decorrenza Tutto parte sempre con l'inizio dell'anno scolastico Quindi primo settembre o primo di novembre A seconda dei cicli scolastici C'è il rinvio ad ulteriori disposizioni Che dovranno arrivare Questo è paradossale Perché è da inizio anno Che si sapeva che c'era questo problema Ed è da inizio anno che il Ministero Non ha chiarito Come si debbano comportare I lavoratori della scuola Per cui tutti coloro i quali dovranno fare domande Entro il 20 di dicembre Sono tutti coloro i quali hanno la certezza Del diritto a pensione Magari a settembre prossimo Tutti coloro che hanno in itinere O perché la domanda l'hanno appena fatta Nella seconda tornata Dell'app social o dei precoci O la faranno nel 2018 Non sapendo esattamente L'esito di quella domanda Ovviamente non dovranno rispettare Il termine del 20 di dicembre Magari speriamo che il Ministero Da questo punto di vista Si assuma la responsabilità Fisseranno una data diversa Oppure non fisseranno una data Per cui quando l'Inps risponderà Per dire ok hai diritto Il lavoratore potrà dimettersi a andare via Però questo rimane purtroppo Un'incognita Che non siamo in grado ancora di sciogliere Dopo la riprendiamo Prendo la telefonata Che sta aspettando da qualche minuto Pronto? Sì buonasera Buonasera Volevo sapere Se ci sono novità sull'app volontaria Quando si potranno fare le domande? Allora novità in realtà ce ne sono Io stasera non ve ne ho dato conto Nell'immediato Perché ancora non ci sono elementi di discussione Ma l'accordo a Biania Vigliano è stato firmato formalmente Sì allora La notizia è questa Poi in realtà La notizia l'abbiamo appresa Il giorno in cui il presidente dell'ABI Della società bancaria È andato in audizione in Parlamento Nella discussione sulla legge di bilancio Appunto E durante l'audizione ha detto Che la convenzione è chiusa È già stata firmata Si attendeva soltanto il parere del garante Sulla privacy Perché c'è tutta una serie Una miriade di informazioni Che nella domanda di accesso All'app volontaria Debo fornire In particolare la mia situazione debitoria O la mia insolvenza rispetto a debiti del passato Eccetera Che sono elementi abbastanza sensibili Per cui dobbiamo aspettare Che il garante dia l'ok A questo tipo di problematica La stampa ha anche parlato Di quelle che sono le banche Che finora hanno aderito Per cui si sa che sono Unicredit E l'istituto Come si chiama L'altra banca Banca intesa Forse si murmurava del Monte Paschi Che poteva entrare anche lui Nel contesto Quindi queste saranno le banche Le assicurazioni sono già di più Sono già cinque Le assicurazioni che hanno aderito All'altra convenzione Con l'annia Quindi stiamo Sull'aspettando appunto Il parere del garante Dopodiché La benedetta convenzione Sarà pubblicata E a quel punto Quando IMS Dice che ha già predisposto Tutte le procedure Per fare anche Le simulazioni Di calcolo E così via Dovremmo essere in grado Di partire Credo a questo punto Però che ottimisticamente O pessimisticamente Non si possa che dire Che partiremo il gennaio Perché prima di fine anno No, tra l'altro Qui sei interessato Anche tu formalmente Perché poi il passaggio Su Dice a me Dico a te Perché sei pronto Perché dal punto di vista Dell'utilizzo Sull'anticipo pensionistico Volontario Quello che costa Formalmente Io lo chiamo Quello che costa Per renderlo più Come dire Esemplificativo C'è la partita Della previdenza complementare Che entra in gioco In modo abbastanza Importante Con quel famoso Acronimo RITA Che in realtà È già citato Più volte Nell'emendamento Di cui William Parlava prima E che è stato Formalmente approvato E l'Irita c'è Quindi se questo signore Che ha chiamato Avesse un fondo Di previdenza complementare Dovremmo fare una considerazione Più ampia Sì più ampia Anche se Insomma I soldi Sono sempre sui Suoi nel fondo Però a differenza Di attivare Una forma Di prestito Con una banca Che diventa Quasi un mutuo Perché di fatto Puoi deve restituire In un arco Di vent'anni Sia dal punto di vista Degli interessi Che anche Dei costi Dal punto di vista Assicurativo Perché c'è L'assicurazione Sulla premorienza Giocoforza Gli conviene Utilizzare La propria forma Di risparmio Anche perché La legge Gli permette Di avere Dei benefici fiscali Cioè Di avere Quella rita Quella rendita Integrativa Temporanea Ad un'agevolazione Fiscale Importante Però anche qui Ne parleremo Nel 2018 Perché Nella prima fase Cioè Quella di quest'anno Che doveva entrare In vigore Con l'APE volontaria Ma con tutti i ritardi Che ha appena citato William Di fatto Noi incroceremo Le novità Già nel 2018 Che saremo in grado Di essere anche Più precisi Soprattutto La rita Diventa Molto più accessibile E non è collegata All'APE volontaria E ha tutta un'altra serie Di ragionamenti Che vanno approfonditi Perché Questa estensione Vale anche Perché Per chi è inoccupato Per esempio Per più di 24 mesi Poi c'è tutto il tema Del pubblico impiego Quindi il tema Della prevenenza integrativa Lo dedicherei In modo più specifico Io ti invito Ovviamente In una puntata specifica Che faremo a gennaio A parlarne in modo diffuso Diciamo che c'era Molta attesa Sì perché scusa C'è anche un tema Molto importante Che si tratta Che tratta I dipendenti pubblici Cioè la previdenza integrativa Nel settore pubblico Perché finalmente Vengono equiparate Le norme fiscali Come nel privato Con dei vantaggi notevoli È vero che questo Lo spacciano come Un risultato Di questa trattativa Però in realtà Questa norma Di parità Fiscale Era una norma Che si chiedeva Da anni E tra l'altro Già era pendente In qualche tribunale Perché Era incostituzionale Cioè di fatto Deve stata una norma Incostituzionale Quindi sì Si è ottenuta Con questo emendamento Ma lo si è ottenuto Anche perché ormai Erano maturi I tribunali Per rendere incostituzionale Una norma fiscale Sulla previdenza integrativa Che vedeva I privati Con dei vantaggi enormi Sulla previdenza integrativa E i dipendenti pubblici Che sono equiparati Sotto il profilo Previdenziale pubblico Penalizzati Quindi insomma Non c'era proprio motivo E giustificazione Che questo avvenisse Quindi noi dobbiamo dire A questo signore Che ha chiamato Ma anche a quelli Che sono interessati La normativa Che dovremo Ancora attendere Qualche settimana Secondo me William Come minimo Ci porteremo Verso fine anno Ma ne riparleremo Perché appena sarà possibile Darvene conto Sarà ovviamente Nostra cura farlo Perché ci sono diversi Soggetti interessati Noi siamo Molto scettici Sull'accesso All'anticipo pensionistico Volontario Anche perché ciò Che accadrà Nelle prossime settimane Potrebbe anche incidere Sulla decorrenza Della prestazione Perché noi abbiamo sempre Parlato dei famosi 63 anni Massimo 3 anni E 7 mesi di durata Ma Ma siccome nel frattempo Ci sarà l'ufficialità Dei 5 mesi Vedremo lo sviluppo Quanto anche questo inciderà Quindi non a caso Dicevo prima Per essere ottimisti Non prima di gennaio Si partirà Diciamo che sarà la Befana Che ci porta questa notizia Forse Ci interrompiamo per la pubblicità Ci vediamo tra pochissimo Riprendiamo la diretta E naturalmente Se volete intervenire Come sempre Lo potete fare In diretta Allo 052 304463 Utilizzando invece L'SMS Whatsapp Se riusciamo stasera Se no in settimana Comunque la risposta Generalmente io Ve la fornisco Io vorrei Abbiamo prima Parlato dei contenuti Della finanziaria I conti non tornano Lo abbiamo detto E queste sono le ragioni Che porteranno la CGL a Roma Per quanto riguarda Reggio Emilia Perché poi abbiamo detto Sono 5 le città interessate Dalla manifestazione Noi ci dirigeremo a Roma Sabato E quindi Poi magari dopo Diamo gli orari Diamo tutto a fine trasmissione Anche rispetto alle indicazioni Del sito Sono passati in sovraimpressione I numeri di telefono A cui potete rivolgervi Per prenotare Nel sito della CGL Trovate tutte le informazioni Contenute Sia per quanto riguarda Le cose che stasera abbiamo Come dire Sviscerato insieme a voi Sia per quanto riguarda Invece l'organizzazione formale Di come si svilupperà La manifestazione Non è uno sciopero È una manifestazione Vera e propria Nella quale I pensionati I lavoratori Sono chiamati Da parte di questa Organizzazione sindacale A dire che queste Proposte sono insufficienti Per i bisogni Che il paese ha Che la previdenza ha E che il mercato del lavoro ha Quindi sono tanti i temi Non riguardano solo Quelli che devono andare in pensione Ma riguardano anche Quelli che stanno all'interno Del mercato del lavoro E che non trovano oggi Le risposte corrette E i meccanismi Per poter Come dire Vivere un futuro Un pochino più sereno Quindi ci si aspetta Dalla politica Che si diano delle risposte Concrete ai cittadini Soprattutto quando risposte Oggi non ce ne sono E il futuro è un po' annebbiato Quindi insomma Ci vogliono un po' di Certezze Prendo la telefonata Poi ho un paio di situazioni Da mettere in evidenza Insieme a voi Che riguardano i contenuti Invece della finanziaria Pronto? Sì ma buonasera Io stavo Chiamo da Parma Volevo chiedere Io ho un figlio Che ha il diabete È abbastanza alto Il diabete è alto E lavora Diciamo Normalmente Sì Mi pare Di aver capito Che c'è da fare Qualche domanda Perché Ci dovrebbero abbonare Adesso non so Anni di lavoro Di problemi O ho capito male Allora Intanto bisogna che lui faccia Le opportune richieste Di invalidità Che servono a quantificare Dal punto di vista Proprio formale Il mio grado di invalidità Ed eventualmente Il mio riconoscimento Alla legge 104 Si parte da lì Quindi si parte Dalle domande di invalidità Per poter accedere Agli sgravi contributivi Piuttosto che a situazioni Di accesso a pensione Con un tempo anticipato Rispetto alla normativa Ordinaria Occorre avere Quel tipo di certificazione Non ci sono Come dire Certificazioni mediche Ci vuole proprio Una commissione medica pubblica Che mi attesta Il grado di invalidità E il riconoscimento Della legge 104 Quindi I due passaggi Da effettuare Sono prima quelli Se lui ha già fatto Le domande E si utilizzano Quei verbali Per capire Se ha diritto A qualche anticipo No lui non ha fatto niente Lui ha Diciamo Sì A livello cherapeutico Ha tutto Certo Lui ancora Il lavoro In questa azienda Normalmente Addirittura Diciamo che il fatto Che lavori Non è una causa Stativa alle domande Ovviamente Lui le può fare E quelle certificazioni Le può utilizzare A seconda Del riconoscimento Per Ciò che ci serve Costruire Perché Quest'anno Ho fatto una visita Dell'azienda Del medico Dell'azienda E ci hanno detto Per 5 anni Vorremmo lavorare Poi vedremo Quindi lui Lui ha fatto una visita Dal medico competente Che lo ha reso Abile alla mansione Questo però Non significa nulla Rispetto a Ciò che abbiamo detto Prima Io posso Continuare a essere Abile alla mansione Che svolgevo Anche dopo Una situazione Di carattere sanitario Ma ciò Non mi Come dire Impedisce Di poter avere Quella certificazione Medica pubblica Quindi lei si può Rivolgere All'Inca di Parma Tranquillamente Le daranno Tutte le informazioni Possibili Su come Predisporre le richieste Si faranno le domande E vedremo Sulla base La certificazione Quale potrà essere Il riconoscimento possibile Ho capito Ok Grazie Niente Tra l'altro Insomma Diventa importante Anche ai fini Della assistenza No no ma Tra l'altro Per completare la risposta Siccome Stanno circolando Tante informazioni E vedo che la gente È anche abbastanza attenta Oggi Se ovviamente Quel verbale A cui la Cinzia Faceva riferimento Se si farà la richiesta E si otterrà Prevede che solo Con oltre il 74% Io ho delle agevolazioni Lavorative Nel senso che Possa avere Due mesi Ogni anno In più di lavoro Di contribuzione Per ogni anno Di lavoro C'era una proposta Sempre negli amendamenti Della legge di bilancio Che prevedeva Di estendere il beneficio Fino al 46% Quindi anche dal 46% Al 74% Un mese ogni anno Ma è stata bocciata Quindi la commissione Questa proposta Non la passata Perché oggi Questo riconoscimento Di beneficio È solo oltre Il 74% Della 75% Poi c'è una discussione Poi c'è una discussione Invece aperta Sui portatori Di patologie gravi Per i quali Forse ci sarà Un fondo Che darà Qualche beneficio Ma è ancora molto Fumoso Non c'è niente di Due mesi Ogni anno Per un tetto Di Cinque anni Cinque anni Cinque anni Sì Un massimo Di cinque anni Sono Teoricamente Se lavori tutto l'anno Due mesi in più All'anno Insomma Quindi anziché maturare Le dodici Ne maturi Quattordici Con trent'anni Ha il massimo Del beneficio Sessanta mesi E quindi I conti sono fatti così Però Diciamo che Dal punto di vista Strutturale Sempre più diventa Importante Laddove ci sono Delle patologie Rilevanti Poi Lo ricordiamo Le commissioni Hanno E Vi do appuntamento All'undici Di Dicembre Dove Con i nostri medici Cercheremo anche Un pochino Di chiarire I criteri Che ci Portano A quelle valutazioni E come E quando Contestarle Perché abbiamo Calendarizzato Un po' di puntate Molto interessanti E vedrete che Dicembre È un mese Davvero Ricco Di Informazioni Io Questo dico Se c'è una patologia Rilevante Oggi come oggi Stante le normative Che si sviluppano È sempre bene Presentare la richiesta Io comprendo bene Poi devono essere Rilevanti Ovviamente Dobbiamo parlare Di percentuali Che abbiano Una rilevanza Ma anche Già il 50% Io non mi stanco Di dirlo Non mi darà Beneficio economico Non mi consentirà Di accedere A un qualche Agevolazione Di carattere Come dire Previdenziale In senso stretto Ma potrebbe Potrebbe consentirmi Per esempio Per quelle patologie Contenute nel verbale L'esenzione Dalle fasce orarie Quindi ci sono Tutta una serie Di elementi Che vanno incontro A quelle certificazioni Che potrebbero essere Nel tempo Come dire Importanti Per cui se ci sono Delle patologie Rilevanti È sempre bene Metterle in evidenza Perché insomma Diventano Strutturali Anche ai fini Della posizione Piuttosto che Della posizione Lavorativa Io voglio farvi Come dire Una domanda Un po' provocatoria Ma lo dico Perché secondo me Ti provoco Va bene Provoco Rino Perché sento che No non ti provoco Dopo la telefonata Perché la telefonata È più importante Pronto? Pronto? Sì buonasera Buonasera Prego Volevo sentire A fine mesi Tra di questo mese Si riesca la mobilità Si E allora Mi mangiare tre mesi Per fare 41 anni Come devo comportare? Allora Lei finisce la mobilità Alla fine di dicembre? Alla fine di dicembre Perfetto Alla fine di novembre Il 30 novembre 30 novembre Allora Intanto Bisognerà Che lei si attivi Per la riemissione Dei versamenti volontari No ma l'avevo già fatto Quando ha fatto L'edito della mobilità La No 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 Certo Però Alla fine dell'ammortizzatore Io devo chiedere Il ricalcolo Del bollettino In questo caso Del quarto trimestre 2017 Per poter pagare Il mese di dicembre E devo chiedere L'emissione Dei primi due mesi Del 2018 Per poter Pagare I due mesi Che mancano Alla Alla maturazione Dei 41 anni Poi lei Cosa farà? Se è un precoce E quindi Se aveva un anno Prima dei 19 Perfetto Lei il 2 di gennaio Che non è festa Se non ricordo male Potrà venire ad effettuare La richiesta Perché anche se lei La facesse a dicembre Quella domanda Verrebbe calendarizzata Nel montante 2018 Poi si può fare anche a dicembre William Basta che l'ammortizzatore Sia finito Il regionale IMS Non è molto d'accordo Lo so Io lo so Però Ne abbiamo parlato Con Silvano La prendo ad esempio Perché ho avuto un caso L'altro giorno Lo sportello analogo Che finiva L'ammortizzatore sociale Il 30 di novembre E teoricamente Il primo di dicembre Avrebbe potuto effettuare La richiesta Io ne farò due Però io sono un po' Come dire Oltre misura Perché poi viene calendarizzata Comunque al 2018 In ogni caso È una decorrenza 2018 William Però il problema è Che io Il 30 di novembre Che è la scadenza Della tornata di domande Per chi fa i requisiti Entro il 31 dicembre Certo Il 30 novembre Dovrei avere Tutti i requisiti Ma lui non può Lui è ancora Titolare di mobilità Esatto Quindi dovendo fare La domanda in dicembre IMS ci ha detto Che quelle verrebbero respinte Solo il 2 gennaio 2018 È possibile fare le domande Per chi matura i requisiti Nel 2018 Quindi lui avrebbe La domanda respinta Se fatta a dicembre La dovrebbe ripresentare Il 2 di gennaio Il 2 di gennaio Perché a questo punto Lui matura i requisiti Nel 2018 Intanto io la invito A venire comunque Il 2 di dicembre Per fare il ricalcolo Del versamento volontario Lì vedremo se sono arrivate Come dire risposte Dalla direzione regionale Perché a me Verrebbe in mente Che lui è in una condizione Molto particolare Perché rischia di entrare Sì nel Come dire Tetto spesa 2018 Ma potrebbe teoricamente Fare la domanda Prima degli altri Perché formalmente Lui ha già requisito Il 2 di dicembre Quindi io le consiglio Intanto il 2 di dicembre Di venire a ricalcolare Il bollettino E lì facciamo il punto La situazione Se presentare la domanda Per poi farsela respingere O se ripresentarla Il 2 di gennaio Ma lo decideremo Perché ne abbiamo Diverse di casi Di questo genere Dove le mobilità Erano cominciate A novembre Del 2014 Perché ricordiamo Che il 2014 È stato L'ultima tranche Dei tre anni Di mobilità E quindi stanno Esaurendosi adesso E quindi hanno Come dire La vita che finisce Ora E quindi stanno Prendendo le decisioni Quelli che finiscono A dicembre Ovviamente vanno A gennaio 2018 E li faranno le domande Ve lo ricorderemo Però nel corso Del mese di dicembre Perché sono scadenze Importanti Non sono variate Quelle William Sono sempre le stesse Assolutamente Quindi sono diverse Tra APES Tanto per Come dire Renderci la vita Più semplice Tra anticipo Pensionistico 1 marzo Per l'app Precoci Per i precoci 31 marzo Per l'app Socia Quindi sono differenti Le due scadenze A seconda del tipo Di prestazione Che voglio ottenere Ci fermiamo Per l'ultimo spazio Pubblicitario E poi riprendiamo Per l'ultima parte Riprendiamo Per l'ultima parte E io Vi do Un po' la parola Per concludere Nel senso che Dobbiamo dare Come dire Conclusione Alla puntata Se ci sono chiamate Potete naturalmente intervenire Io Condividerei le ragioni Che ci porteranno A Roma sabato E Le motivazioni Che stanno all'interno Della mancanza Di risposte Che ci sono Dentro questa Proposta Che è contenuta Nella finanziaria Ma William Secondo me Posso partire io Con le motivazioni Poi dopo Tu ribadissi Le motivazioni Sono Purtroppo Legate A un problema Di equilibrio Di bilancio Che chiaramente Fa sì Che la coperta Sia molto corta Non è un caso Se avete seguito Le vicende Di queste ultime settimane Che Dopo la presentazione Della manovra Di bilancio In Parlamento Dopo l'inizio Delle discussioni E anche dopo l'incontro Con le organizzazioni Sindacali I commissari Europei Per l'ennesima volta Ci hanno Richiamato All'appello Dicendo Attenzione Non fate manovre Sulla parte Previdenziale Perché queste Mettono in discussione Tutti gli equilibri E il fatto stesso Che la manovra Possa essere approvata O comunque Avvallata Dalla Unione Europea Quindi Questo è uno Dei problemi Ovviamente Fondamentali Poi L'altro problema Vero È che Questa è una manovra Finanziaria Di fine legislatura E nonostante sia stata definita Manovra snella Snella 120 articoli Poi non so quanti diventeranno Alla fine Quei commi Con gli emendamenti Che sono già stati presentati E approvati Quindi sarà tutt'altro Che snella Sono state trovate Mancette di varia natura Per intervenire Su vari settori Che hanno ovviamente Ulteriormente eroso Le risorse Però purtroppo È un percorso Che è partito in salita Perché fin dall'inizio Padovan ha detto Erano 300 I milioni a disposizione Per intervenire Sul capitolo Previdenza Il peso dell'intervento È grosso modo questo Anzi diventerà Sicuramente qualcosa in più Anche perché Abbiamo ancora appeso Alcune vicende Alcune promesse Fatte all'ultimo incontro Come ad esempio I benefici per le donne Nel disegno di legge Che è in discussione In Parlamento C'era lo sconto Per l'ape social Per le donne Di sei mesi Ogni figlio Fino a un massimo Di due anni All'incontro Gentiloni In ultima battuta Aveva rilanciato Dicendo Faremo lo sconto Di un anno Per ogni figlio Quindi 12 mesi Per ogni figlio Fino ad un massimo Di due anni Questo emendamento Ancora non è stato Presentato in commissione Quindi ancora non c'è Se così va Il trend È probabile Che venga poi inserito La Camera Con l'ulteriore passaggio Che vedremo Mentre nel frattempo È altrettanto certo Che ci sarà L'apertura Sull'ape social Per i rapporti di lavoro Che sono finiti Per termine Del periodo Di attività E non per licenziamento Come era Nella prima battuta A condizione Che il lavoratore Abbia negli ultimi tre anni Almeno 18 mesi Di contributi Quindi queste sono cose Che ci sono in più Che sono già state inserite Però non ancora Ovviamente corrispondenti Alle richieste Che erano state inoltrate Prendiamo la chiamata Che c'è in linea Così ne approfittiamo Per far intervenire da casa Pronto? Sì pronto Buonasera Parliamo un attimo Delle pensioni in essere Sì Io ho una pensione Che è sotto tre volte Il minimo E l'anno scorso Per quest'anno È stato stabilito Di Andevarla A ridice di inflazione Volevo chiedere Se la nuova finanziaria Sono state introdotte Delle modifiche Oppure Se si applica sempre Questo tipo di interventi Ditto che Abbiamo parlato Di modificare qualcosa Diamo conto Di quell'argomento Che abbiamo trattato Parzialmente prima Avendo precisato Che si tratta Di una pensione Inferiore A tre volte il minimo Ovviamente Partiamo dalla considerazione Che non è stata Influenzata Da nessuno Degli effetti Provocati Dalla riforma Fornero La riforma Fornero Aveva modificato Il meccanismo Di applicazione Dell'indice costo vita Ma solo per le pensioni Di importo superiore A tre volte il minimo Fino a tre volte il minimo L'indice viene applicato Al 100% E quindi in questo caso È stato applicato Non c'è stato Il blocco Del biennio 13-14 Come hanno subito Invece Le pensioni Di importo Lordo superiore A tre volte il minimo Che ha poi generato Tutta quella famosa vicenda Di cui parleremo Prossimamente Della sentenza Della corte costituzionale Che è stato Oggetto Di un ulteriore esame Quindi adesso Dovremmo capire Esattamente I contenuti E nel frattempo L'unico problema Che era rimasto Peso Qual è stato Allora intanto Noi siamo reduci L'abbiamo ricordato prima Da di fatto Tre anni Di blocco Naturale Nel senso Che non c'è stata Inflazione E quindi Le pensioni Non sono aumentate Ma non perché Erano state fatte Delle restrizioni Perché purtroppo La crisi Aveva generato Questa situazione Anzi addirittura Un anno Eravamo andati In negativo Avremmo dovuto Paradossalmente Diminuire le pensioni Abbiamo dovuto fare Una correzione Dicendo Che nel caso In cui l'indice Fosse stato negativo Lo si applicava Comunque pari Pari a uno L'unica cosa Che era rimasta E che è Nelle richieste Che sono anche Alla base Della manifestazione Del 2 Di dicembre Era quella Di recuperare Il meccanismo Di scala mobile Agganciato Ad un paniere Diverso Per le pensioni Piuttosto che Per le valutazioni Generali Perché il carrello Della spesa Dei pensionati È diverso Rispetto al carrello Della spesa Di chi ha Risorse a disposizione Quindi misurare Per tutti In identica maniera L'incremento Costo vita Non è che sia Così equo Su questo Però ancora Al di là Delle generiche Promesse Dell'accordo Di settembre Dell'anno scorso Di fatto Non c'è stato Assolutamente nulla Quindi questo È rimasto Un problema Appeso Quindi di novità Per il momento Non ce n'è Neanche una Diciamo che sì Sulla perequazione C'era un pochino Di attesa Adesso vedremo Come si svilupperà Con il decreto Definitivo Non ci sono però Novità particolari Da tenere in nota In questo momento Poi vedremo se riprenderanno Dal 2019 In modo più strutturale Ma da questo punto di vista Direi che C'è un messaggio William Di una signora Che è una pensionante Della scuola E chiedeva Deve fare la domanda Di anticipo pensionistico Volontario Ancorché la norma Non c'è Lei dice Io entro il 20 Di dicembre Devo fare qualcosa No Anche perché se lei Facesse la domanda In queste condizioni Con una norma Che non trova Ancora applicazione Paradossalmente Si potrebbe Trovare di fronte Ad una domanda Che non viene accolta Per carenza Del requisito Pensionistico Quindi si troverebbe Nella necessità Di doverla revocare Siccome c'è scritto Esplicitamente Nel decreto E soprattutto Nella circolare Del MIUR Che su Tutto l'intreccio Con l'APE E così via Ci saranno Ulteriori indicazioni A questo punto Aspettiamo queste E poi vediamo Cosa succede Insomma se ci sono Delle diarove Ti do Due minuti Perché sono buona Allora intanto Mi ha fatto piacere Che William Sia partito Prima di me Perché in effetti Ha fatto proprio Un'analisi tecnica E' chiaro che Dove si mettono Le risorse È un aspetto Politico 120 articoli Le chiamo Le mancette In effetti Passiamo Da il bonus Del giardino Fino alla Tosatura Del cane Io ho un cane Va bene Però ecco Fino ai temi Più generali Che possono essere Il tema Dell'IMU Della prima casa Tutti a prescindere O dei 35 Miliardi Dati Alle imprese In questi anni Con dubbi Benefici Su una serie Di questioni Quindi il tema Dele risorse C'è Ma dove metto Le risorse È un tema Prettamente Politico Io credo Che sul tema Delle pensioni C'è la necessità Di mettere Delle risorse Tra l'altro C'era un impegno Lo ricordo sempre Questo del 28 Di settembre E su questi temi Qualcuni Due In particolari Non c'era Da tirare fuori Delle risorse Almeno nell'immediato Cioè il tema Della pensione Di garanzia Per i giovani E la questione Della cosiddetta Previdenza integrativa Sì che aveva dei costi Ma talmente esigui In prospettiva Che bastava eliminare La tosatura Del cane E lo sgravio Del giardino Per dare anche Una copertura economica A questi due capitoli Quindi Noi chiediamo E facciamo un appello Perché il 2 In effetti È una manifestazione Non è uno sciopero Perché crediamo Che da lì Da un momento Di manifestazione Si deve ampiare il consenso Largare il consenso Il più possibile Anche per poi arrivare Delle iniziative Di sciopero Di carattere generale Ma che devono essere costruite Attorno a un consenso Il più ampio possibile Dopodiché ci dicono Ma sì Ma è una questione politica No Non è vero È una questione sociale Qui è una questione Di piattaforma È una questione Di impegni presi E poi certo È anche una questione politica Perché Il tema delle risorse Dove le voglio destinare È sempre una questione politica È chiaro Allora Io vi invito Naturalmente A consultare Il sito della CGL Dove ci sono tutte le informazioni Telefonando avrete Alla Confederazione Tutte le informazioni Relativamente Alla partenza Di sabato mattina Io ringrazio William e Rino Che stasera Sono stati insieme a noi Andremo in treno a Roma Quindi vi aspettiamo Perché per il momento Hanno predisposto i treni Vi do l'appuntamento A lunedì prossimo Dove parleremo Di successioni Con Erika Mascetti E quindi Per questa serata Vi auguro Buonanotte I diritti in diretta In collaborazione Con CGL Inca Teorema Inca